eccoci qua ciao ragazzi come stai, vatti a posto? questo disgraziato ovviamente lo conoscete e questo altro disgraziato che invece sono io magari qualcuno di voi ha avuto modo di vederlo allora, Ismaele ci siamo fatti una bella chiacchierata che spero tutti voi o perlomeno un maggior numero di persone possibili hanno visto durante il servizio che dire, Ismaele io voto per lui, numero uno e comunque alla fine è proprio vero che le piccole cose fanno la differenza anche secondo me è così quindi forza Ismaele, forza onestà e a basso mertà ciao a tutti ciao ragazzi